Parte dal Salento la rivoluzione green nel settore oreca. La Food, Beverage & Co. SRL di Taviano, prima azienda in Italia nella distribuzione oreca ad essere carbon neutral, ha promosso Beverage for Future, focus sulla sostenibilità nel settore food and beverage e sull'impatto ambientale degli imballaggi alimentari. Un primo segnale tangibile da parte della distribuzione italiana verso l'impatto zero, cioè verso situazioni carbon neutral. È un percorso difficile perché in Italia ci sono tantissime aziende della distribuzione e adeguarle tutte inizia a diventare un'impresa. Noi abbiamo voluto dare l'esempio per primi anche nel mio ruolo di presidente Italgrove, quindi un segnale chiaro che vada nella direzione di restituire qualcosa al territorio che ci dà tanto, soprattutto in questa zona a forte vocazione turistica. Obiettivo è quello di evidenziare l'importanza della transizione ecologica. Sul tema rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore si sono confrontati nel salotto di Piazza del Popolo. Come Unisalento e in particolare come Dipartimento di Scienze dell'Economia abbiamo sempre cercato di legarci fortemente al tessuto locale, economico e sociale, anche in una dimensione oggi più ampia e più globale. E in questa dinamica di espansione il tema che oggi avvertiamo di particolare urgenza e impegno è quello della sostenibilità. Intendendola non solo come sostenibilità economica che è uno dei driver importanti per la crescita e lo sviluppo dei territori ma anche ambientale e sostenibilità sociale. Questa manifestazione di oggi sono molto lieto di poter partecipare perché fa il punto proprio su questa iniziativa e quindi benvengano anche iniziative che coinvolgano fortemente i territori locali, i piccoli borghi per poter consentire un'evoluzione ad ampio spettro. Il tema della sostenibilità ambientale è oggi diventato forse il principale driver che guida i consumi delle persone. Se io dico la parola plastica per le passate generazioni era simbolicamente, pensiamo all'ingresso degli elettrodomestici, degli utensili in plastica nelle case della classe media italiana, significava era il simbolo di un'acquisizione di status, di ingresso nella società ricca o pulenta. Oggi se dico la parola plastica è l'icona dell'inquinamento degli oceani. Questo ci dice come si è cambiato l'immaginario collettivo, in particolare delle giovani generazioni, ma non solo, e più in generale l'agenda sociale. Quindi oggi il tema della tutela dell'ambiente è il principale driver che guida i consumi. I numeri parlano chiaro. Un'azienda come la mia, di modeste dimensioni, quando sono stati misurati tutte le emissioni di CO2, sono rimasto sconcertato. Di sbosca, se così possiamo dire, è un quantitativo di alberi che insiste su un territorio, su una zona di 20 ettari. Figuriamoci le aziende più grandi che cosa, che impatto di inquinamento e di CO2 danno al pianeta. Quindi adesso forse è finito il momento del dire e bisogna passare a quello del fare. Grazie.